bello a tutti ragazzi sono alexis me da oggi siamo qui ritornati con un nuovo video oggi siamo qui in compagnia di xtigle2 e gianpaolo 98980 ebbene sì ho trovato questi due ragazzi nonché siamo amici del psn e oggi tenteremo di portare un gameplay su 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 ragazzi voi le sapete mv3 infatti ecco adesso cerchiamo una partita dopo il 40 e 19 da un po che non gioco mv3 e iniziamo dai che cerchiamo questa partita il programma adesso si va bene facciamo un death match e un dominio due partite classiche come facciamo sempre va benissimo comunque la prima volta che che registriamo insieme ci siamo conosciuti via psn e mi hanno contattato anche via facebook con qualche messaggio dopo che avevano visto un po le mie abilità quindi death match a squadra è uscita underground una mappa non malaccio e ho anche delle buone armi per giocarci come sempre il nostro obiettivo è semplice adesso ho tutte le classi di supporto quindi giocheremo giocherò un po più tranquillo io magari i loro due rusheranno come dei dannati quindi ok non sento più niente ora ci sono vabbè dai iniziamo e questo death match è già avviato e stiamo perdendo come al solito infatti vediamo di eh mamma mia se mi ha sciottato questo mi ha fatto il culo letteralmente non c'è il radar c'è qualcuno qui devo levarmo oh cacchio che cacchio è successo è saltato tutto l'host è andato a tutto nuovo ok come sempre l'host è andato noi puntiamo la vittoria noi puntiamo la vittoria se poi non va bene non va bene io farò insomma il difensore di turno tirando il maggior numero di uav possibili lo faccio per voi e per nessun altro ok come sempre credo che l'M4 per te va bene e adesso spacchiamo il culo a un po' di gente tre tacche l'host non è buono ma vabbè eh ma si ci abituiamo con le connessioni italiane eh boh eh boh io sono abituato ad avere quattro tacche iniziano oh mamma mia iniziano già con le stun questi guarda che schifo guarda che schifo mamma mia ho fermo dietro le scale mamma mia faccio solitmarca, faccio solitmarca e alla macchina vabbè solo assisto a fare mhm giorni cerchiamo di fare qualche trick guarda eccolo qua sopra oh mamma mia quanti sono ehi 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 chi è che ha tirato uav ah io no ah nemmeno io io non ho fatto una kill tecnicamente cosa voleva fare con questo c'è ma sta veramente lì mamma mia che schifo ma sono tutti dall'altra parte no ti ha cerchionato eh stanno tutti fermi i mid map mamma mia per terra per terra mamma mia pensavo stessi scherzando ma invece era stessi per terra eh forrano su charlie ah questi qui giocano di flashbang eh dove volevi andare ah ecco ce n'è uno sopra eh no lo debito ma anche se che schifo silenzio di tomba fermo immobile missile predator alleato in arrivo ah che nuovo voglio tirare a lungo a lungo partita non vedo ancora nessuno non ho ucciso solo uno eh scusa partita diciamo oh granata oh granata marcia ma no 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 ma dai più lontano no eh questo air e qui questo irlandese del cazzo madonna ma워요 irlandese ok dove è che cadono gli apri oh mamma mia ho lanciato mai la granata tutti fermi stanno ma che è ma che c'è sì ma dai dall'altro lato della mappa guarda questo oh 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 me ne stavo prende una cosa fai? muori Devi morire Credo che sia una trappola Non prendere l'approvvigionamento E questi qui Cioè camperoni Buttano giù gli elicotteri Proprio bravi Oh L'hai preso Dai guardalo Oh ma c'è uno che sta facendo il bordello Kampf Russell Mamma mia Insomma io non vedo nemici Li hanno messo in radar ovunque Ma sono nostre Questa è in radar Salì salì Mamma mia Tutti fermi Nelle case Infatti questi fanno Molto molto schifo Mamma mia Oh ce n'è uno dentro Due in strada No Spero se lo sbaglio Due dentro Hanno distrutto pure l'H6 Mamma mia Questi qui giocano soltanto per putare più gli elicotteri Eh Fanno casino di putare con gli elicotteri Fanno casino di putare con gli elicotteri Quello il proprio Oh ma ce n'è uno sotto non riesco a prenderla Cosa che è già morto? Non ci credo Allora in questo qui cos'è che aveva? Ma sponano su B e Alpha Dai 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 Non mi ricordo neanche più gli spawn perché da tre settimane Eccolo eccolo Pest di merda Mamma mia con le stun Ma tu non sai giocare Non sai uccidere in modo onesto Solo con le stun Mamma mia Esatto Bazzardi Come ho fatto a non fare headshot ma non lo so solo io Intanto lost C'è almeno Dai Dai Chi è lost Vediamo Eh forse sì sì forse so io lost Vediamo un po' Eh sì so io Dubito Mamma mia ho fatto Cioè gli ho sparato ai piedi Ma tutti fermi? Però cazzo lo scaro Ok ne ho preso un altro Ancora uno e riesco a prendere uno a via Questo è già una cosa buona Eh li eh li 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 Oh sono tutti dentro mamma mia Ma fra qui stanno questi Che schizzo Mamma mia mia Mi è venuto una strida Dov'è l'altro Io non li trovo Eh l'altro è troppo a fuori UAV per voi UAV per voi E l'altro UAV è online Eh li eh li 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 sto per lì sopra Guardali tutti lato all'altro lato della mappa Eccoli 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 Oh mamma mia Oh mamma mia Arrivo sempre in ritardo No no oh una granata Mamma mia Non ho neanche messo scudo blindato Questi qui ci vanno pesanti Non ho una granata Eh vabbè ma passa Sti esclusivi cazzo Specialista sempre all'ultimo Ma solito No spero c'è ne uno in garage Dai su una rega una 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 No vabbè uno dietro la macchina Li mortassi su Vabbè abbiamo vinto Quattro ciclo Era difficilissimo Non trovavo i nemici Non so come hai fatto da fare 27 e 7 Fortuna Vabbè dai spariamoci una Questa partita è andata Una vittoria buona Adesso C'è un'altra C'è un dominio va Una bella partita di dominio Vediamo perché se c'è dom Un underground Non so Scegli tu Adesso se facciamo una partita di dominio Ah già mi avevo dimenticato Visto che voi siete gli ospiti di questo video Molti vogliono sapere chi siete veramente Se anche voi avete un canale youtube oppure no Tu c'è ma quando mai Io no E quindi siete così Sono dato il passaggio Per dire ma si dai Conosciamolo di tu e facciamoci un video insieme Ok pigliamoci B lo prendiamo dopo Sì che tocca prendere B assolutamente Io però vado Quanto A scoppare loro Che a me C'è uno con lancio granate Di volte vedi un po' di Tip renderla Fai ferì Speck arrivo Ho sentito qualcosa Amma mia Però siamo riusciti a prenderlo Adesso da un po' Buono 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 Eccone uno Ora con la squadra in l'angolino Eccolo qua Pietro scuola dietro buongiorno ok diamo alfa e loro che è più grande prendere charlie eccolo via 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 la granata io sono andato su b però sono su c no vado in tunnel stanno tutti su cino andando in tunnel no ma dai non puoi giocare con un razzo cioè non so stanno usando l'rpg dietro smonti su alfa arrivano su b anche arrivano su b mi sa che vanno per il push vanno in base arrivano pure da dietro dietro a dietro a mamma mia ho sbagliato io granata su fammi tripla qualcosa arrivano su b eccoli vols vols cecchino cecchino spi eccolo lì in ebbi che molto occhio ragazzo marco pittata mamma mia stavano tranquillamente edificato prendo la ma vai 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 te ne vuoi andare da quel fottuto angolo o giubbotti che siamo alfa di nuovo ci sono giubbotti su bravo state prendendo alfa eh l'ho presa io bene c'è uno avvia io ho etichettato i due dai ragazzi mamma mia che palle nooo ma cacchio ho sbagliato sobbisco pezzo di me dai su prendo l'assi scherchillatemelo eh però io aspetta stavo aspettando l'assi che era un one shot io vado a prendere i giubbotti no perchè che prendono ci cazzo nooo non è possibile non muore che ritardati ma no 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 in quale mondo in quale mondo sono proprio stupidi ma fanno stare con una bandiera loro eccolo la cazzo oh ci sono due giubbotti incredibili ancora perchè la donna non ha visto che cazzo che dio che ho aiutato fammi spostare il radar da qui però ok mi sembra di vederne uno qua ma non è possibile non muore non muore è immortale non vi fa neanche i partiti oddio coltellino questa va tirata oh spingos c la puntata ma c'è già vabbè c'è gente che gioca con la tua vita con ignoranza cioè non so dai 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 corri volenti quanto quanta gente che c'è lì cazzo io voglio fare un'idea 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 che cazzo facciamo a perdere A non ci arriva il tempo io su A stiamo prendendo cazzo io su A io su B che ma porto cane se non vuoi morire forse forse tu dalle io copro dietro bravo alleato bravissimo lo apprezzo molto non vedo rimisci non vedo rimisci non vedo rimisci occhio 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 si vabbè ci ho sparato un caricatore intero lui da un colpo ma sta laggando malissimo quello che mi ha ucciso eh vabbè vabbè è meglio per questo c'è scusa io ho tirato il casino di cuore forse forse c'è uno sta tranquillo me ne occupo io tranquillo ma vabbè ehm dove è che no? regala tunnel ma io non riesco no è lo stesso di prima che lagga eh lagga lagga sta laggando eh non c'ho più le temi scusa fai i passi va a scatti non è possibile però eh arrivo su A pusciano a destra pusciano forte su A c'è l'ho da mo' a posto dai su roate tu doppio dai 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 guardati già c'è tra l'estero veloce oh ma c'è uno che sta aspettando che gli lasci davanti mi chiamate mi chiamate mi chiamate mi chiamate ok ok ho deciso quello che la gara dai chi la mi chiamata dai chi la mi chiamata non sono stavolta mi chiamato mamma mia che schifo io non so neanche dove spavola adesso ci siamo davanti vorrò subito mi siamo in faccia dovrebbero trovare su alfa non è possibile su alfa dove dovevo andare vediamoci io no no non la prendo eh tanto che io ho preso la torrenta sam che è inutile in questo gioco quindi lancano da alfa dovrebbero aver fatto questo giro in teoria ok ho preso un b ma ducciano ducciano forte su io qua sono subito dovrei riuscire a oh cacchio a killarne un faio ma ultima chance no ma dai c'è che schifo in due erano sul come si chiama il cassone ok ok cosa stanno prendendo niente no però b non andava a preso ne sta arrivando uno su b no ma su alfa uno sta andando oh no ok lo ha preso l'alleato su alfa l'ultima speranza c'è una carata dovrebbero morire non muoiono comunque sto a 12 se mi va bene a filo ah io non sto facendo tecnicamente sto a fare 5 e 9 approvvigionamenti per i nemici d'arrivo no vabbè come ho macchillato no vabbè com'è fatto il bazooka lì con quel cascio ormai giocano così sottetto ma sottuna è che non c'è il quale ci ha avuto ci ha avuto oh dai ne ho fate 6 mi manca pochissimo adesso punto ha da fare i 10 kill perchè cavolo lo faccio per due ok ne ho già fatti i 10 no ma dai no non è possibile non è possibile ha letteralmente ha letteralmente sparato tutt'altra parte io la lancio ormai si si lancio ormai si la lancio la lancio e la madonna molto oh ua v avanzata intanto ormai ti serve finente perché a partire è finita mi lancio un ua v così tanto che ho avuto tanto mamma mia stanno hanno chiesto abbastanza ok io lo abbiamo avvi avanzato quindi adesso abbiamo il vantaggio e voi mori no vabbè e l'ho fatto così un tupissimo no granate ovunque no cazzo vabbè ragazzi masterchef no vabbè come fa tutti quelli che vicino adesso sono conite in tal clan buone come ho detto facciamo 10 kg con cazzo ne ho fatte 9 no non finirò anche qui si anche questa è fine in programma abbiamo due partite per il video possiamo anche andare un po' avanti facciamoci anche un altro paio noi ma non registrate quindi adesso usciamo un attimo dalla sessione e posso chiudere il video ok detto questo ragazzi il video è su quello qui ci vediamo la prossima volta e spolliciate se volete se li volete rivedere insieme a me ciao ciao a tutti ciao 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 ciao